I carabinieri della stazione di Genova in collaborazione con i colleghi della stazione di Martinsicuro nell'ambito dell'attività di ricerca dei latitanti hanno rintracciato a Genova ed arrestato in esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello dell'Aquila una cittadina di 47 anni. La donna rinchiusa nella casa circondariale di Genova dovrà scontare la pena di 11 anni e 6 mesi di reclusione poiché ritenuta responsabile in concorso per traffico di sostanze stupefacenti continuato accertato nella primavera del 2007 a Martinsicuro. La complessa indagine denominata Bagnale venne condotta dai carabinieri del Rosso dell'Aquila di Albadriatica e Giulianova coordinata dal Tribunale di Teramo e consentì di svelare l'esistenza di una fiorente attività di usura, estorsioni e spaccio di stupefacenti realizzata da un nutrito gruppo di persone costituito da italiani e nigeriani e capeggiato da altri individui di etnia rom collegati ad associazioni criminali attive nel capoluogo partenopeo. Oltre a interessare i comuni presenti su questa fascia costiera, gli indagati erano riusciti ad imporre le loro attività anche in altre regioni d'Italia, in particolar modo nelle Marche e in Veneto. Il quadro probatorio raccolto dai carabinieri consentì l'emissione di 11 provvedimenti restrittivi da parte della Procura di Teramo e il deferimento di circa 40 persone, nonché il sequestro di beni mobili, 8 autovetture ed immobili, una villa ed un appartamento.